Quarta domenica del tempo pasquale, la domenica del buon pastore, in cui ascoltiamo un brano, un passo del capitolo decimo del Vangelo di Giovanni. Il buon pastore che dà la vita per le pecore, non come il mercenario che non è pastore e al quale le pecore non appartengono. Questo signore, il mercenario, vede venire il lupo e quindi abbandona le pecore e fugge. Perché è un mercenario e non gli importa delle pecore, per via negativa viene descritto il cuore del buon pastore. Il buon pastore ha a cuore le pecore perché le pecore sono sue, sono collegate alla sua persona. Ecco, qui noi abbiamo il cambiamento radicale del rapporto con Dio. Il capitolo decimo del Vangelo di Giovanni si colloca dopo la storia del cieco dalla nascita che viene guarito e che viene espulso dalla sinagoga e che però è l'uomo che arriva alla luce, non solo la luce fisica ma anche a riconoscere che Gesù è il Cristo, il figlio di Dio e quindi si apre alla vita nuova. Sull'onda di quel fatto il Vangelo di Giovanni inizia il capitolo decimo dove Gesù parla di questa nuova condizione. Qual è la condizione a cui fa riferimento quando parla del mercenario? È la condizione, diciamo così, della religione, della sinagoga, della legge, della norma da cui tutti dobbiamo uscire perché possiamo anche essere cristiani ma stiamo ancora sotto legida della norma, sotto la mentalità, nella logica culturale, psicologica, storica di pensare sempre di essere degli estranei rispetto a Dio. No, il buon pastore ha un rapporto intimo, conosce le pecore con tutto il portato forte, profondo, esistenziale di questo verbo nella scrittura. Il problema è che la salvezza viene da questa conoscenza, non dalla forza, dalla qualità, dalla coerenza delle pecore. Le pecore sono povere, hanno bisogno di protezione e hanno bisogno di essere salvati dal lupo. La nostra vita è soggetta a pericolo e allora noi dobbiamo seguire qualcosa, qualcuno. dobbiamo chiedere aiuto, sostentamento, alimento, guida a qualcuno e corriamo il rischio di vivere sotto il governo del mercenario, cioè di qualcosa che dobbiamo pagare per fargli fare il suo servizio e siccome è semplicemente un rapporto di scambio non varcherà mai una soglia. Che soglia? La soglia del dare la vita per le pecore. Ecco, per questo il padre mi ama, dice questo testo, perché io do la mia vita per poi riprenderla di nuovo. È una qualità di vita diversa. Noi abbiamo una vita che possiamo solo perdere e una volta persa non la ritroviamo più. Per questo viviamo in un ambiente di parsimonia, mentalmente calcolando tutto quello che diamo, quanto riceviamo e abbiamo paura di perdere la nostra vita, perché la nostra vita è questa. Il Signore Gesù porta un'altra qualità di vita. All'esser condotti da Lui si viene portati alla vita nuova e la vita nuova è una vita che si può dare perché ritorna, perché è eterna, perché non la perdiamo per gli espropri che l'esistenza ci mette davanti, perché tutto quel che ci può succedere sarà sempre più piccolo di Dio. La vita che il padre dà al figlio è la sua stessa vita e il padre che lo ha amato gli ha dato questa pienezza, l'amore, la pienezza, la concretezza, la completezza dell'esistenza, quell'esistenza che noi sentiamo sempre incompleta, debole, fragile. Ecco, seguire questo pastore vuol dire sperimentare la liberazione dall'oppressione della paura. Noi che appunto abbiamo una vita in difesa e dobbiamo costantemente sviluppare tecniche di protezione, possiamo entrare per la conoscenza che abbiamo di questo pastore, per l'esperienza oggettiva, reale, concreta dell'affidamento a lui, dell'abbandono nelle sue mani, dell'accoglienza della sua santa volontà. Noi sperimentiamo il cambio di vita. Ecco, ci sono tante altre pecore, tanta gente che non è di questo recinto, tanta altra gente che ha bisogno di trovare questo pastore. come lo troveranno? Incontrando pecore salve, incontrando pecore ben pasciute, ben pascolate, incontrando gente che ha vita di qualità diversa. Ecco, in questa Domenica del Buon Pastore sappiamo che siamo amati perché questo amore si irradi intorno a noi, si mostri, si vede quando una persona ha conosciuto questo pastore. Si vede perché ha un io profondamente rasserenato. Dice la lettera ai Romani, non c'è più alcuna condanna per coloro che sono in Cristo Gesù, il lupo non ha più potere e il rapporto con Dio non è un rapporto di mercimonio, di scambio, di pagamento. Non dobbiamo meritarci l'amore di un padre perché un padre non ama perché un figlio se lo merita ma perché semplicemente è suo figlio. Ecco, liberati da questa condanna perché condotti da questo pastore, noi possiamo vivere una vita che va alle acque della vita, che va alle sorgenti dell'esistenza, che cammina fino alla pienezza. Tante volte noi siamo espropriati, rovinati dalla fiducia, dal sentirci abbandonati. Ecco, questa liturgia viene per ricordarci a tutti che ci siamo fidati del mercenario e non dovevamo. Ecco, possiamo tornare al pastore guardiano delle nostre anime, come dice la prima lettera di Pietro.